Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video non voglio parlarvi di un mouse da gaming, un mouse costoso, un mouse professionale, ma un mouse economico. Quindi un mouse da battaglia, un mouse riservato, rivolto a coloro che non vogliono spendere cifre esorbitanti per un mouse da utilizzare solo nella navigazione web o per, diciamo, correggere gli articoli tramite la selezione del testo. Quindi un mouse da lavoro, quindi un mouse decisamente molto molto economico, ha un costo di 15 euro circa, ma a differenza dei tanti mouse presenti sul mercato economici parliamo sempre di un mouse Logitech, cioè è un prodotto di buona qualità al giusto prezzo. Il mouse, come vedete, non ha tasti laterali, non ha nulla nel dorso, nemmeno di qui, non si illumina, cioè è praticamente terra terra, come si suol dire, è molto molto ridotto in funzionalità, presenta solo tre tasti. Abbiamo il sinistro, il destra e lo scroller. La particolarità di questo mouse risiede nel fatto che premendo i pulsanti, come potete udire, a malapena avvertirete il suono del click, cioè è davvero silenzioso. E lo stesso vale per lo scroller, sia utilizzandolo in questo modo, sia premendolo. Quindi è davvero molto molto silenzioso. Molto comodo da impugnare, come vedete, con la mano, diciamo, coprite l'intero mouse e considerate che io ho una mano non così piccola e quindi, diciamo, già con la mia grossa mano riesco a utilizzare il mouse comodamente con una solida impugnatura e il mouse naturalmente è ottico e si sposta egregiamente sul tappetino. Quindi, diciamo, è un prodotto per coloro che vogliono, diciamo, un mouse economico che necessitano di un mouse da battaglia da utilizzare per lavorare e quindi non per giocare. Non è un mouse da gaming, come vedete, non ha RGB, non ha pulsanti, non è programmabile. È un mouse semplicissimo nel design. Si tratta del Logitech M110S. Come vedete, è presente un cavo USB che, naturalmente, non può essere scollegato. Però la particolarità di questo cavo è che è abbastanza lungo. Quindi potete collegarlo tranquillamente al vostro PC ed avere tutto lo spazio necessario per muovere il mouse evitando, quindi, di ritrovarvi in una condizione di questo tipo. Ripeto, è un mouse senza pretese, è molto economico, è comodo da impugnare, molto silenzioso. Ottimo se volete spendere meno ma avere un prodotto di alta qualità. Dopotutto parliamo di un mouse Logitech.